La vedi, tutta questa zona, finché non la scurisci, non riesci a capire nulla. Quello che è importante adesso è che capisci che quella zona, questa zona qui, così, e che va fino a qua sotto, ma compreso questo, guarda, tutta questa zona qui, tranne questa luce forte, e poi questa zona qui, vanno più scure. Guarda una cosa, che è una cosa importante. Nella bottiglia, la vedi questa zona qui? È più scura dell'altra. Questa zona qui si chiama terminazione. È il punto dove, se lo vedessimo dall'alto, facciamo finta che la bottiglia la vediamo dall'alto, ok? La luce arriva da un certo punto, ok? Qui rimbalza e mi dà il massimo della luce, che è qui, perché la luce arriva da qua. Quindi qui c'è il massimo della luce. Più vai di lato, meno luce rimbalza. Fino a che a un certo punto la luce non rimbalza più. Ci siamo? No? Che è questo punto qui. Quindi.